Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cioè in questo Vangelo di Gesù, oggi consegnato a voi, c'è anche una missione per voi. La famiglia è la vostra famiglia. Voi che siete responsabili la dovete chiorare. È un dono dato a voi, ma fatto per tutti tramite voi. Invece ricordate che questo è il luogo in cui è nata la vostra famiglia. Io Stefano accolgo te e Erminia come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti ed onorarti tutti i giorni della mia vita. Io Erminia accolgo te Stefano come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti ed onorarti tutti i giorni della mia vita. La grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nel dolore, 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 nel dolore. La grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nel dolore, 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 nel dolore. La grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nel dolore. La grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nel dolore, nel dolore, nel dolore, nel dolore. La grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nel dolore, nel dolore, nel dolore, nel dolore. La grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nel dolore, nel dolore, nel dolore, nel dolore. Grazie.